buonasera a tutti grazie di essere qui grazie a inquieta di avermi invitata di nuovo questa volta in presenza e quindi ancora più bello allora faccio una piccola premessa negli ultimi due anni complice anche questa questo strano periodo che abbiamo che abbiamo vissuto tutti quanti mi sono avventurata nelle vite di alcune persone che mi incuriosivano che ammiravo molto e che ho cominciato ad approfondire e poi a restituire con dei racconti c'è un filo conduttore che unisce più o meno tutte queste persone ed è il desiderio di riscatto di riconoscimento di risarcimento anzi perché si tratta il più delle volte di persone maiuscole persone notevoli che per ragioni misteriose non hanno ricevuto in vita ma talvolta neanche post il dovuto riconoscimento e quindi nel mio piccolo ho cercato in qualche modo di rendere loro onore e dare insomma appunto offrire loro un omaggio la persona di cui parlerò questa sera è una persona che invece credo conosciuta in molti è una scultrice francese che si chiama Camille Claudel che sinceramente la conosciamo da poco cioè da quando soprattutto quando è stato fatto un film su di lei le ragioni per molto moltissimo tempo tantissimi anni di lei non si sapeva nulla e adesso io vi spiegherò perché non sapevamo nulla di lei in questo edificio al piano terra visse e lavorò Camille Claudel dal 1899 fino al 1913 data in cui si interruppe la sua breve carriera artistica ed ebbe inizio la lunga notte dell'internamento c'è sempre qualcosa di assente che mi tormenta lettera a Rodin 1886 i miei occhi leggono questo su una lastra in marmo accanto al portone di un bel palazzo affacciato sulla senna mentre passeggio sulla piccola il san lui in una giornata di agosto che pare novembre un cielo triste come tristi sono quelle poche righe vergate in memoria di una donna che oggi perlomeno in Francia tutti conoscono e rimpiangono eppure di lei nata nel 1864 e morta nel 1943 forse non avremmo saputo mai nulla se un professore di storia facendo delle ricerche sul più noto fratello poeta e diplomatico Paul Claudel non si fosse incaponito sulla vicenda tragica di Camille pervicacemente occultata dalla famiglia grazie al ritrovamento di documenti lettere e cartelle cliniche aveva scoperto che l'artista non era morta nel 1920 come fu allora scoperto scusate come fu allora dichiarato bensì 23 anni dopo e che quella menzogna aveva forse lo scopo di alleggerire se così si può dire l'insostenibile durata della sua permanenza nell'asilo psichiatrico di Montverg dove fu rinchiusa per 30 anni la storia di Camille Claudel non era dunque più un segreto anche se la maggioranza dei francesi seguitava ad associare quel cognome al famoso scrittore fino a quando il cinema talvolta mezzo di divulgazione insuperabile non la consacrò definitivamente con il film del 1988 a lei dedicato dal regista Bruno Nuiten la dimenticata Camille divenne un mito grazie alla bellezza di Isabella Gianni e al vigore di Gerard Depardieu una fama improvvisa che ha commosso il pubblico per via dei risvolti romantici e drammatici della vicenda umana che hanno forse distolto l'attenzione da ciò che Camille aveva più a cuore la sua produzione artistica è dunque dall'ultimo domicilio civile della Claudel che ha inizio il mio peregrinare parigino sulle sue tracce tracce solide e possenti come le sculture che ci ha lasciato visibili in una sala del museo da in rue de varenne o al museo d'orsè acquirente di alcune sue opere giorni intensi di ricerche articoli libri le lettere accorate scritte in manicomio quelle appassionate di rodane i giorni felici della loro relazione podcast vecchie fotografie che ne testimoniano la grandezza e poi la discesa agli inferi mi hanno trascinata in una valse tanto per citare il titolo dell'opera più bella e significativa di emozioni forti e di sconforto il primo pensiero a venirmi in mente è che Camille Claudel sia stata innanzitutto una vittima della sua epoca come lo fu a suo modo lucia la sfortunata figlia di james joyce accomunata da un analogo destino entrambe segregate e occultate da famiglie apparentemente illuminate sopraffatte dal tabù della follia all'eccentrica anticonformista Camille sarebbe forse bastato nascere 50 anni dopo per ricevere ciò che le aspettava e che disperatamente desiderava le venisse riconosciuto una disperazione tanto profonda da minare la sua già fragile salute mentale bisognosa di cure e di amore non certo di oblio è sufficiente ripercorrere le tappe della sua vita per rendersi conto che tutto ciò che ha detto fatto scritto e creato Camille Claudel è il frutto di uno straziante bisogno di amore negatole sin dalla nascita da una madre annichilita dalla perdita del primo genito Camille concepita sette mesi dopo è quel che si definisce in psicologia il figlio sostitutivo che ha però la sventura di nascere femmina e di non corrispondere al desiderio materno per reazione la bambina sviluppa un carattere violento attribuendosi il marchio di virilità destinato al figlio perduto manesca collerica eccessiva la piccola Camille si sfoga sulla materia affonda le mani nella terra e nel fango e impara presto a dargli forma le prime creazioni nascono spontaneamente sono il prodotto di una natura predisposta alla scultura disciplina che Camille considera una chiamata alla quale non può sottrarsi a sei anni modella la creta distinto e in maniera ossessiva a dodici tiranneggia domestici e familiari costringendoli a posare per lei una furia che la madre disapprova il padre asseconda tacitamente il fratello subisce posseduto a sua volta da un furore che più avanti sfocerà in liriche appassionate e fanatismo religioso pur molto diversi i due fratelli sono legati dalla stessa ostinazione che riversano sull'oggetto dei loro interessi entrambi precoci sono convinti di essere dei predestinati il temperamento dei clodel è sanguigno furibondo in casa legge a un clima di tensione permanente solo a mantenere un controllo è il padre che mostra un debole per la figlia ribelle e intuendo nel talento la affida ad alfred boucher uno scultore che insegna anno jean vicino a casa clodel ci vuol poco a capire che la ragazza merita un istituto all'altezza delle sue capacità l'accademia delle belle arti sarebbe il posto giusto peccato che l'accesso alle donne sia vietato boucher propone di iscrivere camille all'accademicola rossi a parigi dove è stato chiamato a insegnare una scuola in controtendenza non solo per il libero accesso ma perché unico luogo in cui sia previsto lo studio del nudo maschile e femminile fondamentale nell'apprendistato di uno scultore è un mestiere inconcepibile per una donna dell'ottocento ma la caparbietà di camille alla meglio e malgrado l'opposizione della madre la famiglia si trasferisce a parigi dove camille potrà seriamente dedicarsi alla scultura il desiderio di indipendenza non tarda a manifestarsi a soli 17 anni insieme a due allievi della cola rossi camille condivide l'affitto di uno studio è il primo vero distacco dalla famiglia due anni dopo il maestro boucher annuncia ai suoi allievi che dovrà trasferirsi in italia non vi lascio soli vi affido un grande artista che saprà degnamente sostituirmi è così che entra in scena l'immenso non solo in senso figurato auguste rodin il maestro nel 1882 il 42enne rodin è già una gloria nazionale camille non si lascia intimidire e sottopone al giudizio dell'artista i suoi recenti lavori vieille hélène che raffigura il volto dell'anziana governante di casa claudel e paul a tres ans un busto con le fattezze del fratello minore rodin è impressionato dalla maturità della giovane allieva ma qualcosa di più profondo lo colpisce in quei ritratti riconosce un'appartenenza si riconosce quel loro primo incontro porta con sé il segno dell'inevitabilità l'impressione è divenuta ben presto consapevolezza di essere fatti l'uno per l'altra lui le insegna ad affinare la tecnica ma è intimamente conscio del fatto che quella ragazzina sappia già tutto che sia dotata cioè di quella conoscenza che non è frutto di studio e pratica ma è grazia ricevuta un dono privilegio di pochi e per questo straordinario lo intuisce al punto di chiederle di lavorare per lui alla realizzazione di una nuova opera appena commissionata la porta dell'inferno è la consacrazione camille lascia la cola rossi e si trasferisce nell'atelier di rodin in qualità di apprendista le ho mostrato loro ma loro che trova è tutto suo a lei saranno affidati i compiti notoriamente più delicati la realizzazione delle estremità mani e piedi vero banco di prova della perizia tecnica con il sottofondo dei colpi di martello i fendenti degli scalpelli in un'atmosfera incandescente di brutalità forza e infinita dolcezza di polvere e sudore nasce il loro amore potente come l'arte che entrambi esercitano fra tutte credo la più erotica nonostante il carisma e il vantaggio del suo ruolo della sua esperienza del suo corpo il non plus ultra della virilità come uomo e come artista e dei suoi anni 24 più di lei il primo a capitolare è rodin ti amo con furore le scrive abbi pietà di me crudele abbi pietà non posso passare un giorno senza vederti diventerei pazzo non esistono altre donne la mia anima ti appartiene non ci credi ma io piango le sue lettere trasudano lirismo e commovente sentimentalismo la passione per camille si esprime anche nella creazione le sculture di rodin si fanno via via più sensuali più morbide passa ore a osservarla lavorare ne è affascinato tanto da sentire il bisogno di appuntare su un quaderno le sue impressioni si accanisce sulla materia molle triturandola palpandola colpendola con gesti bruschi e violenti così i primi giorni poi finalmente comincia a modellare l'argilla a darle forma non prima di averla posseduta dal canto suo camille sembra più concentrata sul lavoro ha imparato molto dal maestro ma è alla ricerca di uno stile personale vuole affrancarsi dalla sua influenza anche se il marchio rodin sembra appartenerle da sempre e per sempre quando un amico del padre esperto d'arte aveva visto le primissime sculture di camille aveva chiesto se fosse stata ispirata da rodin la dodicenne non aveva idea di chi stesse parlando a lungo camille seguita a chiamare il suo amante monsieur rodin per deferenza soggezione ma anche per naturale diffidenza nei confronti dell'amore un sentimento che non ha mai conosciuto quando lui dichiara di volerla proteggere e si impegna a onorare il loro indissolubile legame mettendo per iscritto quasi fosse un contratto che presto saranno marito e moglie lei cede cede pur essendo a conoscenza della relazione di rodin con un'altra donna a cui è legato da anni e dalla quale ha avuto un figlio i due non si sono mai sposati però e questo lascia ben sperare camille è la stagione breve della felicità nonostante l'opposizione della famiglia di lei che mal digerisce una relazione con un uomo che ha l'età per essere le padre giudizio condiviso da buona parte del milio parigino i due sfuggono alle maldicenze rifugiandosi in un castello fuori parigi dove passano il tempo ad amarsi e a scolpire l'attuale proprietario del castello conserva alcuni disegni prodotti dai due artisti e la succosa testimonianza di un passatempo trascritto su un foglio il famoso questionario di proust con le risposte di una camise pensierata tratti anche spiritosa la tua virtù principale non ne ho sono tutte noiose la qualità preferita in un uomo ubbidire a sua moglie la qualità preferita in una donna far arrabbiare il marito occupazione preferita l'ozio la sua idea di disgrazia essere madre di tanti bambini pittori e compositori preferiti me stessa cibo e bevande preferite l'amore e l'acqua fresca il tempo passa ma rodin non mantiene la promessa non sposerà camille non lascerà rose forse la fiamma si è spenta o più semplicemente il vecchio artista è tornato alla realtà rose rappresenta la stabilità familiare una donna fedele che lo ha sempre sostenuto tollerando i suoi tradimenti è la madre di un figlio disabile che non si sente di abbandonare anche se non lo riconoscerà mai una decisione saggia e vigliaca che camille identifica come il trionfo della borghesia ben pensante e per lei è l'inizio del buio non sopportando l'idea di venire definitivamente relegata nel ruolo di amante camille lascia rodin e si trasferisce in un atelier in boulevard di tali la furia si riaccende lavora giorno e notte incessantemente è in questo periodo che realizza la valse l'opera più ispirata due corpi nudi volteggiano trasportati dalla danza l'uomo sostiene la donna cingendole la vita lei rifugia il volto sull'incavo della spalla del suo compagno ma se li si osserva da vicino ci si accorge che non è la musica a guidarli non stanno affatto danzando ciò che li avvince è il terrore del precipizio non c'è gioia nella rappresentazione gli amanti sono colti nell'attimo prima della caduta la tragedia incombe e nulla può impedirlo tranne l'arte l'artista camille claudel salva i due amanti fissandoli nell'istante prima della fine riuscendo a compiere quel che la vita reale non le ha concesso certe volte non sempre conoscere la biografia di un artista aiuta a comprenderne l'opera nel caso di camille claudel si tratta di un esercizio necessario poiché raramente si è vista una produzione artistica altrettanto autobiografica al contrario di rodin fisico materiale la sua scultura è cerebrale intima i personaggi rappresentati da claudel sono sempre imprigionati reclusi hanno le braccia tese lo sguardo rivolto verso l'alto voltano le spalle al mondo invocano l'ascolto la misericordia nell'age mur l'inesorabile passaggio del tempo è evocato da tre figure un uomo maturo viene trascinato dalla morte che ha il volto di una vecchia arcigna e grinzosa ai suoi piedi in ginocchio una giovane donna implora l'uomo di non andare è la rappresentazione plastica dell'abbandono subito i volti sono quelli di rodin rose e camille il delirio persecutorio diagnosi che verrà iscritta sulla futura cartella clinica ha inizio dopo la rottura con rodin camille comincia a maturare un risentimento ossessivo si convince che rodin sia responsabile del fallimento della sua carriera che saboti che saboti le commissioni impedendole di lavorare in realtà lui farà di tutto per aiutarla segretamente ma la personalità borderline di camille allontanerà i committenti intimamente sollevati di essersi liberati di un artista difficile claude debussy legato a camille da un sentimento amoroso mai ricambiato è uno dei pochi amici che frequenta ma anche il musicista ben presto si arrende è sola senza un soldo le rare volte che si fa vedere in pubblico ha la faccia tosta di parlare male di lui dell'intoccabile sostenendo che millanti la paternità di opere da lei realizzate rivendicandole come proprie e che tutta la produzione di oda riposi sul plagio di opere altrui considera considerazione azzardata ma non così lontana dalla realtà la luce si spegne di camille claudel non vuol più saperne nessuno lei si isola nel suo atelier non mangia non si lava vaga di notte per le strade di parigi imbacuccata come una barbona in preda al furore strappa la carta da parati e distrugge a colpi di martello gran parte delle sue opere è una forma di autodistruzione di suicidio il fratello paul nel frattempo diventato diplomatico membro dell'academy estimato letterato teme per la sua reputazione la sorella sta infangando il buon nome di famiglia arrivò addirittura a pensare a una possessione diabolica e chiese aiuto a un esorcista di sua conoscenza il solo a mostrare misericordia è il padre che di nascosto alla moglie le invia soldi e vestiti non immagina che la figlia non li indosserà mai il corpo esile di un tempo è solo un ricordo in sovrappeso gonfia camille dimostra il doppio dei suoi anni i profondi occhi azzurri i più belli che abbia mai visto come scriverà il fratello paul sono spiritati fanno fanno quasi paura è in questa fase che il destino di camille è segnato oltre che da una famiglia ostile e una relazione sentimentale che oggi definiremmo disfunzionale da un'epoca ancora vergine di letteratura psichiatrica aliena a qualsiasi espressione di emancipazione femminile refrattaria a ogni forma di anticonformismo camille è la figlia reietta del suo tempo qualcuno in francia un giorno dirà camille claudel è l'orgoglio e la vergogna del nostro paese quando nel 1913 muore lui claudel il padre tutto precipita insieme a lui si spegne l'ultimo tenue rispetto per la sua condizione la madre e il fratello paul non si degnano nemmeno di informare camille che non parteciperà al funerale altra impressionante analogia con lucia joyce che seppe della morte del padre leggendo la notizia su un giornale nel manicomio dove era stata rinchiusa dove era stata fatta rinchiudere dalla madre e dal fratello anche lei e naturalmente non la informano di ciò che avverrà di lì a poco la morte del padre coincide con la scomparsa di camille claudel dal mondo dell'arte e dal quello dei vivi il 10 marzo una settimana dopo il decesso due uomini sfondano la porta dell'atelier de lille saint louis afferrano camille per le braccia e la caricano su un'ambulanza per trasferirla in un ospedale psichiatrico dando seguito alla richiesta di ricovero volontario surrettiziamente formulato dalla madre un'azione talmente violenta che camille non riesce a convincersi sia inappellabile nutre la speranza che si tratti di un ricovero temporaneo non può credere che la sua famiglia possa arrivare a tanto scrive alla madre senza risparmiare una tragica ironia cara signora claudel ha intenzione di farlo durare a lungo questo scherzo si accorgerà ben presto che non si tratta di uno scherzo e allora le lettere numerose quanto inefficaci assumeranno un altro tono camille falleva su ogni possibile sentimento supplica pietà ferocia sadismo codardia ingiustizia scrive a chiunque con il furore che la contraddistingue implorando supplicando senza sapere che le missive non varcheranno mai le mura di cinta del sanatorio la madre ha dato formale ordine di non permettere alcuna visita non spedire le lettere non fornire notizie a chi che sia camille claudel è a tutti gli effetti una sepolta viva il delirio paranoide naturalmente si moltiplica dovendo cercare una ragione che possa motivare la crudeltà della situazione per lei inconcepibile si convince che il suo internamento sia stato ordito con il preciso intento di trafugare le sue opere mi hanno spedito a far penitenza nei manicomi dopo essersi impossessati dell'opera di tutta la mia vita è lo sfruttamento della donna l'annientamento dell'artista a cui si vuol far sudare sangue è impressionante la lucidità espressa nei suoi scritti contrapposta all'intransigenza impietosa dei familiari che non si sono mai ricreduti sull'ingiustizia inflitta camille segregata senza appello camille abbandona definitivamente la scultura in trent'anni non produrrà più nulla continuerà però a scrivere senza mai ricevere risposte centinaia di lettere inascoltate meticolosamente raccolte e occultate dalla famiglia lettere che commuoverebbero il più duro cuore di pietra 1927 sono passati 14 anni paul fratello mio portami fuori da qui questo non è il mio posto e tu lo sai questo non è il mio posto e tu lo sai io so che farai di tutto per allontanarti da me accetterai incariche all'estero pur di liberarti di me è così crudele crudele 1932 mio caro paul del tuo dio che lascia marcire un innocente in fondo a un manicomio 1935 a eugène bleu suo antico fonditore e amico sono caduta nell'abisso vivo in un mondo così strano così estraneo del sogno che fu la mia vita questo è l'incubo da quando la madre è morta è paul a firmare il rinnovo del ricovero il cattolico osservante paul claudel non sarà mai sfiorato dal dubbio ogni anno il suo autorevole autografo sigillerà l'alientamento di sua sorella è stato ipotizzato che paul considerasse la clausura di sua sorella la giusta condanna per essersi resa responsabile di un aborto circostanza ritenuta plausibile da alcuni biografi le concederà soltanto sei visite e ogni volta assisterà impassibile alla medesima scena camille in lacrime che gli getta le braccia al collo e lo implora di portarla via ti prego mi farò piccola piccola non vi accorgerete di me quando farà ritorno nel suo castello dove vive con moglie e figli paul dovrà lottare con dei feroci sensi di colpa che si ripercuoteranno su tutta la sua opera e sul cammino spirituale sempre più esaltato di nuovo una considerazione a proposito di un'epoca che riteneva pazza camille e sano il fratello ultra cattolico preda di deliri mistici oggi a venir rinchiuso sarebbe forse lui in pubblico paul non mancherà di parlare di sua sorella come uno dei più grandi geni della scultura di elogiarne l'opera e lo spirito camille claudel diventa vecchia senza accorgersi che oltre il muro che la tiene prigioniera si sono succedute ben due guerre lo scoppio delle quali fornì un alibi ai familiari per la mancata liberazione di camille siamo sollevati di saperla al sicuro il secondo conflitto mondiale la coglie sul limitare degli 80 anni l'età e la condizione di camille fanno di lei quel che la barbarie nazista definiva persona inutile gli internati pazzi saranno gli ultimi degli ultimi le razioni vengono dimezzate le cure interrotte il direttore dell'istituto dell'istituto psichiatrico invia un telegramma all'ambasciatore claudel qui si muore di fame la prego di inviare dei soldi per sua sorella nessuna risposta nessun contributo alle due del mattino del 19 ottobre 1943 il genio della scultura camille claudel muore all'età di 78 anni causa della morte denutrizione le sue spoglie saranno gettate in una fossa comune nessuno verrà mai a reclamarle grazie 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 grazie